come prima cosa saluto tommy che ha scritto hashtag panino secondo come seconda cosa siamo qui nel nostro video il ritorno di tommy perché tommy finalmente è ritornato a giocare con noi ma non perché arrabbiato era arrabbiato perché non giocava da tanto tempo e perché mi faceva schifo giocare da papa aveva allora vabbè che devo aumentare suonerie e multimedie belle qua se no arriva il coppio non si non si è il tempo in cui io non ci sono stato fatto mi sono scontato in piscina e e basta e poi domanda per voi che scrivete nelle cose nei commenti privati che se ne so scrivere nei commenti privati che ci sono i commenti pubblici che se ne so ditemelo adesso si comunque è vero questa cosa si scrive nei commenti privati dove li posso vedere solo io tutti gli altri scrive cioè ci sono due persone al mondo che scrivono nei commenti pubblici cammi e seba il resto del mondo nei commenti prima basta ma proprio che penso che non si penso di essere o stato io per sbaglio a mettere i commenti privati o questa cosa o una cosa del genere ma non penso di averli messi se io forse di un messino vabbè ci guardi comunque io ragazzi allora ragazzi noi prima off camera abbiamo fatto una victoria insieme la mia prima victoria in questa situazione intanto lei mi ha ciutato la cesta bellissimo volevi prendere la di play in vero? no mi sono buttata apposta ah ragazzi aspetta faccio vedere una cosa bella è diventato un contadino ora raccogelo hanno Mi servono a me le pannocchie Tra le pannocchie a me Ah ma sono io il cantadino qui Oh c'è un spito in mezzo Che bello fare il Piero Acogliendo le pannocchie Sono curato Chi li vuole il bar No c'ho il coso Mi son curato Hai visto che ho fatto Io ho fatto E' una pistolina Ma te non stai bene Ma te non stai bene Sinceramente Oh ma la gente C'è? Cos'è vi devo lanciare le pannocchie Ma mi sentite? Ma ragazzi Questa è la prossima volta Giuro che non c'è nessuno Prossima volta Se mi fai parlare Prossima volta Scrivete nei commenti Pubblici Perché almeno Così sembra un'offesa Ai cari spettatori Però Così dopo sembra Che li obblighiamo A scrivere No Che almeno così Vedo anch'io E chiamo Luca Dicendo Guarda Non ho scritto Che mi vogliono rivedere Allora facciamo i video insieme Semplice Yeah Quella Quella La 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 Sto prendendo Le robe belle Quella La Oh my god Una chest Leggendaria Oh Sana Umigodi Oh my god Una leggendaria Una chest Leggendaria Ah comunque Rega Non solo Stiamo facendo il video Solo per il ritorno Di Tommy Ma anche perché C'è anche il ritorno Della Della Oro Messiccio Cioè Questo video sarebbe Il ritorno di Tommy Però Soprattutto Il ritorno di Tommy Soprattutto Il ritorno di Tommy Perché mancava a tutti E L'oro Massiccio Una domanda Ti piacerebbe Giocare Nella stagione Nella stagione 4 di Puntiamo alla Victory Puntiamo alla Vittoria Nella stagione Che verrà Tra un bel po' No In ogni stagione Ci sono due episodi Di puntiamo alla Vittoria Ma non è una stagione Di Fortnite Non è una stagione Di Youtube Anche che son fatto male Va bene È tipo una Però dovresti essere Tipo il quinto Perché gli altri posti Sono tutti prenotati Vi spogliaro due cose Veloci Allora Adesso lo stiamo facendo Con Seba Manca L'ultimo episodio Con Seba Solo che l'altro Penso di doverlo caricare O l'ho già caricato Non lo so Comunque domani Nel dubbio Regà Domani mattina Dopo la live Di recetto e Clank Penso Penso che mi metterò Ad editare i video Un pochino Giusto per farmi uscire Le prune di qualcuno Aspetta Comunque nella partita Prima off camera Abbiamo fatto Vittori Cosa ho detto Eccolo la gente Ma finalmente Arriva la gente Vanno l'ha generato Come lo schifo Ma non ci faccio caso Dove è che sono Qua una skin 3 yard Ormai è scarso Sto cercando di tunnellare Ma È scarso Io lo definirei Spamone Si PEM Si PEM È proprio un bel PEM Sai Guarda che lui Adesso si gira E mi fa una kill Guardalo No Cioè Penso di no Che non posso zampare Ti prego Fra non morirci Penso sotto di te Ora C'è una coppia di là Fra ha trovato il tipo Fra veloce che poca vita C'è chi non è un tipo Riesce a prendermi Che poca vita Vabbè non ho più materiale Dai Dai Non ho curo Fra No Vabbè Niente raga Dobbiamo fare un'altra partita Stiamo facendo un video Perché ci sei venuto a arminare il video Brutta persona Eccoci raga Abbiamo avuto qualche problemino Tra una partita e l'altra Abbiamo dovuto quittare Riunirci Fare tutte queste cose E ora niente Allora Avevo una domanda per i nostri cari spettatori Ok Fai la tua domanda Scrivete nei commenti Se vi piace di più la mia skin O la skin di Luca Se vi piace di più la skin di Luca Scrivete Ashaq Luca Se vi piace di più quella di Mia Ashaq Tommaso Semplicissimo Semplicissimo Perché c'è così in alto Eh Ma Perché io sto dicendo Vergeri così in alto Mi raccomando È molto importante Questa cosa qua Vabbè Perché È molto importante Questione vitale Non è proprio Questione vitale Come la chiami tu Però dai Sì È più vitale Come la Come la cura per il covid Ed indica cose Non esattamente rega Ascoltate me Non ascoltate quell'altro Ok Buona 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 Allora Ok Ci sono Ho bassato Tutti le cuchie Perché prima le avevo bassate troppo Adesso le ho bassate così tanto Perché dopo Mi esplodono le orecchie Uè Uè Un tipo con caccia Uè Con il P90 Pure Sì 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 Ma cos'è Cioè Gesù Cioè Secondo me Questa qua La Renegade Normale Non è che mi ha fatto Questo qua Non Puzza Signor Shadow Oh Perché lei non parlare Perché stavo osservando questo tipo orribile Con questa skin orribile R C'è uno skin orribile sto tipo Bicone che ha Però C'è anch'io 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 Per i 14 sfide dell'inverno Della season 7 Che poi Ragazzi Cosa molto importante In questa stagione qua Non ci saranno le sfide Per il Per i 14 Giorni d'estate Non ci saranno E la piccina Si è voluta così Ma te che ci sono Oh C'è un noob con un coso Allora Allora ragazzi Scrivete anche nei commenti Se Volete Che io e Luca Spero che l'accordo Votate ovviamente voi Nei commenti Se potremmo diventare Tipo soci del canale Votate nei commenti Scrivete Sì Per Se volete che diventiamo soci E no Se volete che diventiamo soci Oh Dove sei? Ciao Oh Mo Scatemi la guerra nei commenti? Vuoi che l'ha fatto Scatenare io? Scrivete nei commenti Se è meglio La PS4 E l'Xbox O la Nintendo Qui si scatena la guerra Adesso Vabbè Però No Mi raccomando Sia per le skin Che per Il fatto dei soci Perché Può essere una cosa divertente Possiamo fare molte cose insieme Vero Poi dipende Da che tipo di challenge Comunque Da che tipo di serie Mi sono fermato lì e stavo cadendo Cadendo dalla sedia o cadendo per conto tuo Cadendo Cadendo Dalle Dalla zip line Cioè nel senso che io non ero attaccato alla zip line Questa terrassina Questa terrassina Questa terrassina Una pistolina Io ho una pistolina e un genio Io ho una pistolina E qualcos'altro che troverò qua E un'altra pistolina Ho trovato Ho trovato qualcosa di rarissimo Un tipo L'ho quasi killato E seba che mi ha invitato Non si Io so anche a me Uè Tipo Alliterato Dai io sono l'autorità Ma? Dai io sono l'autorità Vabbè capirai Io sto killando Cioè Cerca di raggiungermi Che È letteralmente più Calmo qui Allora Mi sa che adesso mi rifugio In un posto sicuro Poi direi che faccio un mini taglio Perché mi stanno chiamando Quindi Penso proprio Vieni da me Mi proteggi Mentre faccio il taglio Ok ciao ciao Eh no Sono tutto da me Pronto Sono durante un video Ma Samu non mi vuole Durante un video Sì Durante un video No Ma Ma non posso farlo dopo Ma mica sono da solo Fra Lo sto facendo con una persona specifica Degli amici Allora Svolgi quel cazzo Di oro Marteggio Vieni con noi Ditto Ditto Eccoci rega Ho avuto una piccola Chiamata Ora sono Sento Cos'è successo Il putiferio Cosa sto vedendo Ok È letteralmente Successo Il putiferio Lì Non uccidere 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 Penso Devo trovare Un modo Per restarti Mi prendi Vai a Che non è medica Grazie 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 24 24 23 Grandissimo Vai Vai Alla Fattoria Sì Ce n'è uno La Questa la panza Oh Guarda che io Non provarmi Sì Ma quanto Luttiamo Non prendere La cassa Bravissimo Oddio Mamma mia Che sforzo Non prendere Una cassa Non pensavo Fosse così Complicato Da vero Se vabbè Se guarda là Ti immagini Loro Non se ne accorgono Ecco Punto Ti immagini Loro Non se ne accorgono Cosa hanno fatto La prima cosa che hanno fatto E hanno sparato Ok C'è anche un altro tipo Però sono tutti i tipi Amico Ok Ci sono altri tipi Questa è la missione Restare Tommy È sempre così Quando io muoio Sempre Sempre La missione speciale Ragazzi Poi io sono anche Scarso da testiera Perché non gioco Con un pezzo Da testiera Fatto da una settimana Da mia mamma Vabbè Non avendo La testiera Non potevo Molto Penso che sia L'ultima partita In questo triste video Il ritorno di Tommy Poi ci sono anche gli altri Che mi stanno dando Falsile Perché vogliono Che vada con loro Mentre sto facendo Se vabbè Arrivo da Racing Ci sono 40 team Vabbè Guarda che è scarico Ok Mentre si carica Lui va via No 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 Non farlo Non farlo Stavo bene Comunque rega Questo era il video E niente ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao